A Roseto, nonostante l'allestimento del cantiere, non sono ancora cominciati i lavori per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti del centro del riuso. Questo nonostante gli annunci di avvio lavori fatti dall'assessore all'ambiente del comune costiero Nicola Petrini. Una situazione su cui, ricordiamo, pende anche il ricorso al TAR presentato dal comitato No al centro di raccolta rifiuti nel cuore della cittadella dello sport, da alcuni cittadini e anche dalle imprese limitrofe al terreno. Dopo le spostaltari i lavori sono stati appaltati regolarmente come a sfida di qualcosa, tanto lo facciamo lo stesso. Poi in effetti non sono mai partiti e questo alla fine crea anche un disservizio a Roseto, perché avendo i soldi e avendo un progetto approvato potevamo già avere il centro raccolta rifiuti funzionante in un luogo idoneo. E per rimarcare il no a questa opera sabato 10 luglio dalle ore 10 nell'area sportiva Roseto Sud, ci sarà anche una manifestazione dal titolo No rifiuti a fonte dell'Olmo. Far sentire comunque che noi ci siamo, ci siamo sempre e vigiliamo su che cosa si farà. Per questa amministrazione e per le prossime a venire, perché tra un po' si vota Roseto e quindi noi siamo sempre dell'idea che il centro raccolta rifiuti non va fatto lì. Abbiamo luoghi idoni e vanno sfruttati. Le soluzioni alternative noi abbiamo l'autoporto. Se non vogliamo la zona industriale che comunque è già piena, l'autoporto, il comune ha tanti terreni, anche lontani da abitazioni, nel nulla. Quindi la soluzione c'è, è visibile, è anche comoda, perché è facilmente raggiungibile da tutte le frazioni, non si intasa comunque ancora di più il centro, una zona commerciale e comunque lì è incomprensibile, è veramente incomprensibile, non si capisce tutta questa testardaggine. Hanno scelto una zona per farla diventare, prima con rolli, poi semi abitativa, semi residenziale, dopo è diventata residenziale bene, la cittadella dello sport, commerciale, quindi non si capisce perché mettere questo centro raccolta rifiuti proprio lì. Noi abbiamo alternative, non siamo una grande città come Londra che non hai alternative e quindi ti serve lì. Noi le periferie, ma non le periferie intese come case, le periferie nel nulla proprio, terreni vuoti ce li abbiamo a 4 chilometri, quindi facilmente raggiungibili e comodi per tutti.